Ho visto Civil War, il nuovo film di Garland, l'ho visto qualche giorno prima rispetto all'uscita in Italia perché attualmente, come sapete, vivo negli Stati Uniti, quindi ho avuto la fortuna di vederlo qualche giorno prima rispetto a voi. E' un film, fra l'altro, che è caro agli americani, dato che parla praticamente di loro, comunque parla di un ipotetico Stati Uniti in cui è flagellato dalla guerra civile. Quindi Civil War non sta per la Civil War di Iron Man vs Capitan America, ma sta in un'ipotetica Civil War che potrebbe avvenire, appunto, negli States. Tra l'altro, piccola curiosità, fa un effetto un po' particolare vedere questi film ambientati nelle zone in cui si vive. Io attualmente vivo in North Carolina, che è praticamente a 3-4 ore di auto da Washington, in cui è girato gran parte di questo film. Fa un effetto diverso rispetto invece a vederlo dall'Italia, quindi da una location così distante. Quando invece ti ci trovi proprio personalmente in carne e ossa nelle location in cui vengono girati questi film, l'effetto è qualcosa di diverso, è più intrigante. Ma a parte questo, il film è di Garland, il regista britannico che apprezzo. Diciamo che alcuni dei suoi film mi sono piaciuti, altri un po' meno. Il suo ultimo, prima di questo, Man del 2022, se non sbaglio, che ho recuperato tra l'altro da poco. Ecco lì, forse le atmosfere mi sono piaciute, la narrazione un po' meno, anche perché lì c'è ben poco di narrazione in realtà. Però diciamo che questo è un regista che punta molto alle atmosfere, ancora più che a una narrazione appunto strutturata, a azione e reazione. E questo lo possiamo vedere nella maggior parte dei suoi film. Tra l'altro è un regista di Ex Machina, quindi uno dei film di fantascienza più iconici degli ultimi anni. Anche quello ho apprezzato, quindi è un regista che solitamente apprezzo, tranne appunto specifici casi come appunto Man. E il film Civil War è interessante, anche questo è interessante come in realtà tutti i suoi film, per vari motivi, per molteplici motivi, ma soprattutto per il punto di vista che presenta il film. Come abbiamo detto, ci troviamo davanti a una guerra civile tra gli stati americani. Ma il punto di vista della storia è quello di alcuni giornalisti di guerra, fotografi di guerra in particolare, che vogliono andare a Washington a intervistare il presidente americano prima che la guerra possa appunto finire. Poi non voglio aggiungere altro, ovviamente, per non spoilerarvi la trama. E tramite questo punto di vista dei fotografi giornalisti di guerra, il film Garland ci mostra le atrocità di questa guerra, di questa guerra civile, delle atrocità che Garland ci mostra senza alcuna censura. E non è la prima volta che viene utilizzato un punto di vista del genere per mostrare appunto le atrocità di un campo di guerra, ma risulta comunque interessante, a maggior ragione se pensiamo che questa guerra è una guerra civile, quindi praticamente tra fratelli della stessa patria. E quindi nell'ambito di questa guerra civile, gli states diventano praticamente, sono diventati una terra di nessuno, e quindi la strada, le persone in strada, tutto ciò che avviene in strada durante questa guerra civile, è esattamente quello che ci si può aspettare in un campo di guerra come questo. E anche se questa guerra civile appunto non è mai avvenuta in realtà, almeno negli Stati Uniti, e quindi è inventata, è pura fantascienza, ti dà comunque un'idea di ciò che vuol dire, di ciò che accade in un campo di guerra, nella realtà. Ci sono tante guerre civile in realtà nel mondo quotidianamente, e molto spesso non ne parlano nemmeno più i telegiornali. Ebbene, questo film ci mostra con una cruda realtà, con una certa crudezza, quello che cosa vuol dire appunto una guerra civile, o comunque un campo di guerra, stare in prima linea in una guerra moderna, contemporanea. L'altro lato di un pop del genere, quindi diciamo il lato un po' più negativo, è che ovviamente il focus sulla strada, su questi giornalisti, che vanno in prima linea a combattere insieme ai soldati, loro non combattono, loro sparano con le loro macchine fotografiche. Ebbene, il lato negativo è che ovviamente la visione della narrativa, il punto di vista narrativo è molto più focalizzato, concentrato, quindi limitato su quell'aspetto, e quindi viene meno la visione globale. Infatti sappiamo veramente poco di ciò che sta avvenendo a un livello generale. Sappiamo che alcuni stati americani, non voglio dirvi quali, per non appunto farvi uno spoiler, vogliono la secessione, quindi vogliono distaccarsi dagli altri stati americani, e quindi è scoppiata questa guerra civile. Ma a parte questo sappiamo veramente poco. Ora, è vero che il film non ha quel focus, il film non vuole rappresentarci tutte le decisioni governative, gli avvenimenti governativi dietro a questa storia, e il focus della storia è appunto la strada, e ciò che avviene, le atrocità che avvengono in strada, e ciò che questi giornalisti sono costretti a vedere durante questa guerra civile. Quindi il fatto che non abbiamo una visione globale abbastanza chiara, diciamo, è un limite del film, ma è un limite accettabile, o comunque inevitabile. I personaggi principali, i protagonisti, sono appunto questi giornalisti, che sono caratterizzati abbastanza bene con le loro motivazioni, forse hanno, ecco, hanno una loro introspezione, come molto spesso appunto avviene nei film di Garland, lui riesce molto bene a dipingere l'introspezione dei personaggi, anche visivamente, quello è uno delle sue caratteristiche, uno dei suoi stilemi, però hanno uno scarso background. Sappiamo poco della vita precedente, della storia precedente di questi personaggi, ma il film appunto si concentra maggiormente sulla loro introspezione e sulle loro emozioni, man mano che andiamo avanti nella narrazione, e infatti a un certo punto sembra che la loro vita dipenda esclusivamente da questa missione che si sono dati, andare a intervistare questo presidente americano, sembra che loro non abbiano una vita, non abbiano affetti, ecco, quindi i personaggi, per quanto scritti abbastanza bene, o comunque caratterizzati bene, hanno anche questi dei limiti, che sono appunto strumentali a quello che è il fine del film, e cioè mostrare le atrocità di un campo da guerra. Il problema però è che a causa proprio di questa loro dipendenza dalla missione che si sono dati, questi giornalisti a molto spesso, più che sembrare coraggiosi, impavidi, sembrano dei deficienti, sembrano che si vogliano quasi far ammazzare, questa cosa mi ha dato fastidio, soprattutto alla fine, dove accade un qualcosa, ma anche nella parte centrale del film, accade spesso che questi giornalisti vadano a rischiare veramente fin troppo. Ora, io non sono mai stato un giornalista di guerra, né un fotografo di guerra, non sono mai stato in guerra, per mia grandissima fortuna. Però, non immagino che comunque i giornalisti, quando sono in guerra, tengano in considerazione anche la propria vita, perché se crepano in guerra, loro la notizia manco la riescono più a portare, quindi immagino che tengano alla propria pelle. Ecco, questi giornalisti nel film sembrano assolutamente fregarsene tranquillamente del fatto che potrebbero essere uccisi da un momento all'altro, proprio perché si menano praticamente davanti ai fucili, in mezzo alle pallottole, un po' troppo, un po' troppo. La messa in scena di Garland, sappiamo, è un maestro della suspense, dell'atmosfera, dell'angoscia, mi verrebbe da dire. La tensione nei suoi film si palpa, si può tagliare con il coltello, come potremmo dire, appunto, usando uno stereotipo, e anche in questo film la tensione l'avverti. Io sono in molte scene, sequenze, sono rimasto letteralmente aggrappato alla poltrona. Lui è un regista che è comunque molto bravo sotto questi aspetti. presenti i colpi di pistola, presenti comunque di fucile, presenti nel film, li senti, li senti nella pancia, e soprattutto la sua messa in scena è priva di censure. Lui ti mostra l'orrore che c'è in una guerra, come farebbe praticamente un documentario. Quindi noi vediamo le atrocità di una guerra, le vediamo sulla pelle di chi combatte quella guerra, e questo è sicuramente uno degli aspetti migliori del film, ed è praticamente il focus del film. Recitazione, c'è la Dunst, brava, come sempre, poco emotiva, ma è il suo personaggio più che altro che la Garland l'ha dipinto un po' freddo, un po' cinico, per quanto anche lei abbia i suoi momenti di introspezione. Poi c'è Jesse Plymouth, che sappiamo essere ormai è diventato veramente famoso l'attore come l'attore di Breaking Bad, ma ormai sta interpretando ovunque, e in tutti i film in cui compare, tra l'altro, sono dei film interessanti, questo lo posso dire, quindi sceglie molto bene i film in cui comparire, ed è presente lui in una breve sequenza, ma quella sequenza è sicuramente la più interessante, almeno io l'ho trovata la più interessante del film, o comunque quella con la maggior dose di tensione, lì veramente io sono rimasto aggrappato alla poltrona per tutto il tempo, per tutta la durata di quella sequenza, e lui come sempre, ovviamente, è bravo, ma tutti gli attori sono bravi, i problemi che hanno i loro personaggi sono più che altro in alcuni momenti di scrittura, come ho detto, ma sulla recitazione non ho assolutamente nulla da dire, quindi il film tutto sommato è promosso per quanto abbia dei limiti, io come detto apprezzo Garland, non sempre, soprattutto all'interno dei film di Garland ci sono momenti in cui io riesco a comprenderlo, a capire quello che mi sta dicendo in altri momenti un po' meno, e quindi vado incontro a una certa frustrazione come è avvenuto appunto in me, ma in questo caso la narrazione è comunque chiara per quanto non sviluppata in modo globale, ma non era quello il focus del film e quindi è venuto fuori comunque un film godibile per quanto appunto possa essere godibile una guerra, o comunque vedere morire gente in guerra e le varie atrocità del caso, quindi io vi consiglio comunque di andarlo a vedere soprattutto se vi piace questo regista, non aspettate il capolavoro però è un film che secondo me merita quantomeno la visione, detto questo io penso di aver finito a presto, ciao!